Vannoci a provare Sto morendo! Ma no! Mi fanno morire! Sono morta! Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph, e che c'è già che va? A Stronir E finalmente è uscito un survival Che Steph e Fereniki possono portare sul canale Finalmente! L'abbiamo visto su Steam ragazzi, sembra davvero fantastico Praticamente siamo due astronauti Che vanno nei pianeti alieni A cercare loro per diventare ricchi Quindi ci vedo benissimo Fereniki a fare queste cose Dov'è loro? Scusate, mi avete fatto arrivare qua? Datemi subito loro! Non funziona proprio così Allora, è molto molto particolare Si baserà tutto su questa cosa Praticamente questa è la nostra navicella spaziale Questa specie di buchino minuscolo Di capsula, è una capsula È una roba minuscola Fino a quando abbiamo questo filo attaccato Noi abbiamo ossigeno ed energia Quando si stacca perché ci allontaniamo troppo Come potete vedere Iniziamo ad utilizzare l'ossigeno che abbiamo dentro la tutta E quindi si esaurisce in fretta Quindi qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è prendere risorse aliene Per espandere la nostra base Per poter esplorare di più E cercare nuove risorse Quindi si costruisce davvero molto C'è un senso di progressione davvero figo È un mondo bellissimo da esplorare Partiamo raccogliendo un pochettino i materiali Come vedete scaviamo il terreno Quando prendiamo i materiali Ogni tot tempo ci dà uno di risorsa E la cosa bella è che possiamo pure risistemare Vedete? Sì, sì, sì Praticamente rialziamo Esatto, è come se il terreno fosse di plastilina Totalmente, tu lo puoi modellare A tuo piacimento si può fare davvero di tutto Cosa stai facendo lì in fondo? Prendendo materiali Guarda me Oh quanto pesa Mi sto riposando dentro la nostra base Ma ti puoi sedere mentre ci sono io seduto? Prova? Eh, con che tasto era? Tab? No, penso di no Prova adesso? Eh sì, ora me lo dà Ok, ok Almeno è anche realistico Guarda che io pensavo Che ci siamo seduti uno sopra l'altro E invece no Secondo me è il momento di iniziare a craftare qualcosa Sta sorgendo il sole Oh che bello Questo è il nostro giorno Il giorno in cui Steph e Feriniki troveranno l'oro Ma quando mai? Il giorno in cui solo Feriniki diventerà ricca Perché io trovo l'oro e poi ti ammazzo Perché è così Oh, solo una dei due può diventare ricca Beh, d'altronde c'è solo una capsula per tornare a casa Quindi La mia è scomparsa, sì Quindi Uno dei due torna a casa L'altro rimane qua per sempre L'altro torna morto Allora, questo qua è il nostro inventario Spieghiamo un attimino Questi sono gli oggetti che possiamo avere Quindi sono soltanto otto oggetti Mentre qua abbiamo il craft A sinistra ci c'è cosa ci serve per craftare E a destra quello che andremo a craftare Appunto con quello che abbiamo Ecco, ecco, ecco Fatto, 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 fatto E quindi si espande Perfetto E poi ovviamente Se non ricordo male Quando metti altri due pezzi di resina Diventa ancora più grande Si possono fare un sacco di cose Però come vedete Adesso il filo Ci fa andare un po' più lontano Perché il filo Lo possiamo far partire da qui Poi si sposta appunto a qui Quindi insomma Possiamo già muoverci un po' di più Stampante oppure Ricerca Fonditore Spazio veicolo Allora Non sappiamo Per la stampante Facciamo in base ai materiali Esatto Facilità di trovare i materiali Guarda il mio astronautone mentre Sta fluttuando nel vuoto Si è incastrato Si è incastrato nella piattaforma Io direi di fare appunto In base ai materiali Che è più semplice Quindi il fonditore Perché il composto Lo facciamo facilmente Esatto Il composto si trova davvero facilmente Ne ho pure già Quindi comunque buonissimo Fai quello Ok Ok Credo che semplicemente Ci devi mettere i materiali E lo costruisci Se ne hai due fallo Io ne metto e prendo il composto Perché questo qua ragazzi È il composto E poi altrimenti C'è la resina Datemi un bel po' di materiali Eccolo Oh mio dio Eccolo Fonditore E a che serve? A cosa servirà un fonditore? Non lo so Dice che gli serve energia Quindi ci serve costruire Anche un generatore Lo vedi? Che ci sta indicando Che serve metterlo qui Sì Sì Quindi molto molto importante Il fonditore Servirà probabilmente A fondere dei materiali Tra loro Per creare altri materiali ancora E suppongo di sì Vero? Sì suppongo di sì Non lo so Sarà bello da scoprire Allora sto guardando Cosa serve per il generatore E serve il rame Ok Quindi molto importante Credo di aver visto dove è il rame Lo sai? Davvero? Qua Dove? Seguimi Con shift possiamo correre Facciamolo Ah ecco Ok perfetto Sì 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 È abbastanza utile Ok sì Questo qua dovrebbe dare rame Dipende Ah no Sì rame Io vedo rame Sì 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 Aspetta Allora me lo metto nell'inventario È anche del composto Ti dà È anche del composto Cioè ma praticamente Sono dei forzieri? Secondo me Da quello che penso di aver capito Sono dei forzieri Che ti danno dei materiali casuali Perché non sempre ti dà la stessa cosa Sto finendo l'ossigeno Uh pure io Corri Aiuto Corri Aiuto Ci serve dell'aria Moriremo È troppo divertente sta cosa Non farmi morire Corri signorina Ok Ce la faccio Ce la faccio Comunque anche questo in terra è ossigeno eh Sì la so ma non sprechiamolo no? No certo In un momento di emergenza Prendiamoci e saliamo sopra Ok ricarichiamo le batterie E siamo pronti ad andare a cercare i materiali Allora quindi Per il generatore uno di rame serviva? Eh sì Uno di rame Uno di rame Allora Solare Batteria Dieter Serbatoio Generatore Perfetto Craftiamo Tac tat 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 Perfetto Noi lo piazziamo qua perché ci serve per il fonditore Certo certo Assolutamente sì Adesso ci sta chiedendo dell'organico Ah Ok No non sto capendo aiutami Ho capito tutto Allora Questo è il fonditore Che dovrebbe unire dei materiali tra loro per creare altri materiali Ok ci sono Ha bisogno di energia Quindi abbiamo dovuto mettere un generatore Giustamente Un generatore viene alimentato col composto Ok Quindi brucia il composto Crea dell'energia che fa funzionare il fonditore Abbiamo un problema Dietro di te Non so se hai notato Cosa? Non hai ancora visto, girati Cosa? Stai scherzando, non lo vedi? Come facevi a non vedere la tempesta di sabbia? Perché ero troppo concentrato a vedere altre cose Io vado nel cunicolo Tu te ne rimani fuori Non ci provare Sto morendo Mi fanno morire Sono morta Mi hai ucciso Mi stanno arrivando stassi addosso Mi sono arrivando stassi in test Mettiti a fianco al cunicolo senza però starci dentro Ma mi arrivano uguali, guarda Ma io non ci credo che ci sono pure queste cose Guarda il mio cadavere Morta Abbi sensi di colpa Abbi sensi di colpa Io ti vedo morire all'infinito L'avevamo detto, solo uno dei due potrà trovare l'oro E Steph troverà l'oro Ma io non ho capito perché non ho più la mia navicella per ripararmi Non l'ho capita sta cosa Hanno deciso che non potevamo avere solo una Ma perché? Non lo so Spero se ne possa costruire una seconda o qualcosa del genere Perché non è che posso morire un'interfesta Diciamo che fa comodo nel caso E direi Ma finisce sta roba o dobbiamo restare qui dieci minuti Non lo so Così sassi che ti centrano in pieno Può essere Ok, è finito Allora, dovrei aver capito un po' di cose Credo Mi affido a te Mi affido a te Prima di tutto Se noi creiamo questo coso Che è il coso per prendere il sole Un pannello solare Ok, ce lo mettiamo Se mi parli dicendo coso, coso, coso Non ti capisco Gne, gne, gne Scusa Quindi concentrati Che mi devi spiegare Pannelli solari che prendono l'energia La ritrasmettono Vai, vai, vai Ok, il pannello solare Si mette in automatico nel backpack In questo modo noi durante il giorno Perché solo quando c'è il sole Abbiamo molta più energia Quindi è già In effetti non ci avevamo pensato Una cosa utile e molto importante Però C'è un però Praticamente non solo possiamo utilizzarlo per noi Per andare in giro e avere più energia Possiamo anche utilizzarlo Al posto del generatore Ok Sempre per il giorno Per dare energia alle nostre strutture Esatto Ok Questo di ricerca Ho controllato al volo su internet E serve Per identificare degli oggetti Strani che trovi Praticamente puoi trovare Delle specie di casse Ah, ok Nel mondo Mentre va in giro Metti queste casse Dentro questo sistema di ricerca E lui Bla 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 Ti dirà che cos'è E magari scopri nuove cose da craftare Eccetera Tutto molto interessante Ok Poi Il fonditore Non ci siamo ancora Mi servirà altro tempo Però Per ora va bene così Ragazzi è abbastanza complicato Il gioco si sta sviluppando Meglio In questo momento Quindi un po' bisogna cercare di capire Poi 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 Ci serve fare il titer Ok Quindi Titer Hai del composto Sì 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 Ne ho tre Ne ho tre Lo faccio io Che stai facendo Non ci credo Non ci credo Ma perché poi non me ne accorgo mai Perché Allora Io voglio Andare Verso questa parte Che non abbiamo nulla Secondo me Dove sono io No Allora Ho visto prima Una parte dove c'erano Dei forzieri Ok Però non mi ricordo più già dov'è E non lo vedo già più Comunque guardate Praticamente facendo così Abbiamo un filo Che arriva fino a qua A questo punto Io ne ho già anche un altro Quindi Andiamo ancora così E Spim Guardate quanto lontano Possiamo già andare Non è una figata Perfetto Ok lo rivedo A parte che qua c'è una caverna Che Ok È una roba bella interessante Allora Aspetta che ne piazza un altro Continuiamo proprio a farci tutta la stradina Pa 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 Così finalmente non soffocheremo più Esatto Mi sembra giusto E possiamo finalmente esplorare come si deve questo pianeta La vedi lì in fondo il forziere? Ehm No Come fai a non vederlo? Dov'è? Lì davanti a te In fondo Non lo vede Non lo vede Ah ok No aspetta mi è apparso adesso Mi stavo ancora caricando la mappa Andiamo 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 Non ci servono più Ok E così c'è guardate quanto siamo arrivati lontani dalla base Con già Ancora ossigeno ed energia Vediamo cosa troviamo qui dentro Dai qualcosa di bello Voglio aprire io E lo vedo che stai correndo come una pazza Esatto Allora rame Uh È organico È organico Ok l'organico non troppo importante ma il rame davvero davvero buono Senti me Sì ti ascolto Mi stai sentendo? Sì Ok Allora qui c'è una caverna Però io ho paura di esplorare le caverne No dire le caverne è di lasciarle quando magari siamo messi meglio Capito? Sì 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 Anche perché se troviamo mostri Uh huh Che tu mi hai detto che ci sono i mostri Come accidenti li combattiamo? Ma non puoi combatteli Sono delle specie di piante che sputtano veleno Tipo Ah E vabbè Magari troviamo anche qualcosa che ci permette di esplorare meglio le caverne È una roba parecchio strana Quindi bisognerà un attimino capire Sì 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 Comunque io visto che ci sono Prendo un po' di composto che ne ho trovato qua Eh non ho capito i teeter Perché ne stavo Hai visto quanti ne ho fatto? Eh no Quanti ne ho fatti? Ne ho costruito un sacco E non mi stava chiedendo Eh niente Cioè nel senso che non stavo utilizzando del composto Non so come sia possibile Ma dove è? Non mi hai avvertito? Ah io non le vedo Cioè Non ci posso credere Non ci posso credere Corri Sto continuando la mia strada di paletti È una strada che hai fatto un sentiero Sì molto Bravo bravo Praticamente ho notato che lì in fondo c'è qualcosa di strano C'è una specie di montagna illuminata Però minuscola Sembra una specie di scultura addirittura Come se l'avessi costruita qualcuno E quindi voglio arrivare fino a lì La vedi? Eh no No perfetto va bene Non mi farei più queste domande Quando lo vedo ti avviso Ok Ok mi piace C'è una torre Davanti a noi E c'è pure una navicella Probabilmente la navicella con cui siamo arrivati Cos'è questa cosa? Che cosa? C'è una cosa di ricerca Ecco È quello che ci serviva È quello che ci serviva per fare le ricerche Prendilo prendilo Lo prendo Perché io vedo tutto buggatissimo Quindi prendilo Dobbiamo correre Torniamo ai paletti Torniamo ai paletti Torna 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 Non alla base ai paletti Sì lo so lo so I paletti sono da questa parte Aiutami Sto andando lentissimo Cavolo Cavolo muoviti 25% Dove sono i paletti? Dove sono? Così tanto abbiamo camminato Eccoli Sì sì sono qua Vai dritto 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 Corri 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 Sto soffocando Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Eccomi Ok questo quindi ce lo piacciamo nella ricerca E vediamo cosa ne esce fuori insomma Seguiamo No vabbè ma è troppo bello il suo gioco È troppo bello Siamo seguendo una strada fatta di paletti Che ci danno ossigeno ed energia Ed esploriamo il mondo È super immersivo È super immersivo È stato davvero pesante da portare fino a qui Eh ci credo Dai Però finalmente possiamo fare la nostra prima ricerca Speriamo Speriamo Guarda che È un momento proprio epico questo Allora Ok cosa ci chiede? Oppure questo è per avviarla Ok la sto avviando Ok non so come hai fatto C'era un tastino Ok A me sta scattando Cioè Ok È uscito qualcosa Un melone Aspetta Sta scegliendo che oggetto Studiato filtri Quindi adesso Noi andiamo nel crafting E abbiamo il filtri Filtri eccoli Lo posso creare Ne creo uno Qualcun posto E a che serviranno i filtri? Vediamo Oh mi sto gasando Che bello Ok Ok E a che serve? Guarda te l'ho piacciato Lo vedi? Ok sì Sì A che serve secondo te? A che servirà? Perché non ci spiegano Aspetta fermo Sì? Niente non c'è modo di capire Aspetta Ma non è Non è? Ho pensato che il filtro lo potessi usare per l'ossigeno Magari ti durerà più tempo l'ossigeno Nooo Sono pieno di materiale di rame Il fonditore lo abbiamo Allora non abbiamo la stampante Non abbiamo lo spazio veicolo Ok La ricerca ce l'abbiamo Spazio veicolo chiede l'alluminio che non abbiamo No Facciamo la stampante con il rame Sì ho uno di rame Vai Ok Mettilo E ci manca l'altro Te hai creato una cosa solare? Lo sto facendo in questo momento Ho preso un tuo composto perché non ne avevo e l'ho appena fatto Perfetto Perché ho notato che tu ce l'hai in effetti è comodo tenerlo Assolutamente comodissimo Creo un altro titer Ok E ho ancora un organico depositato C'è un composto da qualche parte Questa è resina Questa è resina Abbiamo finito tutto forse Questa è resina Questa è filtro Io ho solo organico Io ho tantissima resina Che infatti lascio tutta in base Ok Voglio provare a riandare dove eravamo prima Tanto c'è appena stata una tempesta Quindi teoricamente non ne abbiamo un'altra no? Allora io deposito anche l'organico Che comunque serve per i generatori E secondo me avere una scorta non ci fa schifo insomma Ok Ci rivediamo dove eravamo prima Ok Ovviamente ci vediamo alla fine dei paletti Così continuiamo un po' di strada dei paletti No arriva 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 Eh ma ormai io sto andando Quindi non ti aspetto Arriva Guarda che bella È troppo divertente mettere paletti Bellissimo Paletti per sempre Ci piacciono un sacco No non servono le canzoni Scusami Ma dai così non No non servono Serve a non far arrivare la tempesta di sabbia Smettila No guarda Ne arrivano ancora di più Ad arrivare alla costruzione misteriosa Ma la vedi finalmente? No Guarda il mio schermo Così ti esalti un attimino Uh Ok Ah ecco ora la vedo Ok È qualcosa È gigante Lo so Qua c'è il composto che non ci interessa È immensa Che cos'è? Che cos'è? Ah sono pezzi della navicella che è crollata Vedi? Eh però dai Ci dovete dare qualcosina O no? Che strano che è Non ci possiamo arrampicare no? No Sì invece Ma Cosa stai facendo? Dai che poi caschi Vai In corsetta In corsetta In corsetta Vai 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 Dove hai visto il coso di ricerca? Qua 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 Questo coso qua A me appare sconosciuto ricerca Ah sì Però non riesco a prenderlo Vedi tu ci riesci? Aspetta Magari dobbiamo scavare intorno E poi lo chiappi No L'idea mi sembrava buona Eh sì però lo stai prendendo Sì 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 Oh meno male che l'ho visto Fantastici Ho visto Ascoltami un attimo Io ho questa cosa in mano Quindi non posso farlo Prendi un po' di composto Qui a destra Eh dove? Qua Lo vedi? Oh Perché non vado Ecco l'eccolo Sì l'ho visto E stai zitto un attimo Dannazione Mi metterai ansia Ti sto odiando Io inizio a tornare A tornare in base Appena stai finendo ossigeno ed energia Attaccati ai paletti E torno a casa Ok? Ok Tanto io per via di questa specie di coso Sono più lento E ti ripeto Ho molta paura Della prossima tempesta di sabbia Che secondo me Sta per arrivarci dritta in faccia Assolutamente sì Assolutamente sì E colpirà sempre a me Con quei massi potentissimi Mamma mia Ci sei arrivata prima tu alla fine Davvero pesante Da portare Dai prossima ricerca Che bello Abbiamo già trovato due cose Da poter Da poter scoprire Cosa sono Sì Vai Sono super emozionata Azione Vai Qualcosa di bello Qualcosa di bello Qualcosa di figo Dobbiamo ancora scoprire Che servono i filtri Sì che in effetti Magari sono qualcosa di bello Oppure quelli Capito Allora Vediamo cosa sarà Voglio un barbecue Voglio un letto Piattaforma di scambio Piattaforma di scambio Fammi vedere subito Nel crafting Segnavento solare Batteria Titer Serbatoio Filtro No la piattaforma È una piattaforma Hai ragione Scusami Adesso non ci stavo pensando Hai ragione Allora è qui Allora è qui Piattaforma di scambio È alluminio però È cavolo No l'alluminio Non l'abbiamo neanche visto Vabbè Ok Allora rimetto Il rame E per ora Lasciamo questo Perché sì Non abbiamo minimamente Alluminio Allora Utilizzo un po' Questi spazi Per depositare la resina Che abbiamo Siamo strapieni di resina Meno male Il problema È che non abbiamo mai visto alluminio Non abbiamo mai visto il litio E anche col rame abbiamo troppa difficoltà Perché trovarlo una volta ogni morte di pappa Sì In quelle palle giganti Non è il modo giusto secondo me Nel senso che comunque possiamo trovarlo da qualche parte Speriamo davvero tantissimo che vi sia piaciuto Perché mi piacerebbe un sacco a me riportarlo Perché è davvero figo È un survival nel canale in questo momento non c'è È nuovo Appena uscito Già tradotto in italiano Ha un sistema diverso dal solito particolare Che funziona Ha un bel senso di cooperazione Secondo me merita di essere portato È il gioco perfetto per noi Sì È emozionatissima Perché poi l'abbiamo sempre detto Il survival è uno dei nostri generi preferiti Non ne stavano più uscendo come prima Infatti ogni volta dicevamo Ci vorrebbe un bel survival Ci vorrebbe È uscito questo È proprio stato Davvero bellissimo Mi è piaciuto giocarlo Guarda Se salti la porta iniziale Che è un po' confusionaria Diventa davvero Davvero Fighissimo da giocare Quindi speriamo che vi sia piaciuto Speriamo appunto di continuare questa serie Nel prossimo episodio Nel caso Andremo per la prima volta Nelle caverne Cercando di non morire A vedere se lì troviamo Alluminio Un po' di rame E un po' di litio Così riusciamo a costruire Un po' di cose nuove Vedere un pochettino Come si evolve E ci fermiamo così Per ragazzi Non ci riesci a lasciarci Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare All'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao